E sono partiti! Dando così via ai giochi di un bel mucchio di paesi! Dove un bel mucchio di paesi si riuniscono per competere in un bel mucchio di gare! Oh, no! La mia pallina, la tua pallina Inizio io! Cadì? Quale mazzo mi consigli? Questa? Buona scelta! Ok! Allora, vediamo... Uno! Oh! Bene! No! È la mia mazza! Usa la tua! Eh? Ah! Oh, sì! Buona fortuna! Solo che... Oh! 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 Che sfortuna! Pensi di vincere anche all'indietro? Posso vincere sia in avanti che all'indietro! Anche sulla punta delle dita? Nessun problema! Da ballerino russo di danze popolari? No! Stupesi gioia! Scommetto che non vinci sbattendo contro tutti gli ostacoli! Allora prova a fermarmi! Eh! Non male! Te l'ho detto che avrai vinta! E il vincitore è... Max Bunny! Eh? Cosa? Ha vinto il coniglio? Ma come? Sono le regole, campione! Sei squalificato se butti giù tutti gli ostacoli!